ciao ragazzi sono riccardo bentornati nel mio canale youtube allora oggi voglio fare un video a grande richiesta per tutti gli appassionati di incisori laser perché come sapete un gruppo su facebook dedicato all'incisori laser che tra l'altro vi lascerò giù nel primo commento nella descrizione e la tantissime volte si parla di questi due incisori quindi il laser picker 4 e l'x tool f1 due incisori laser particolari perché sono piccoli portatili hanno la doppia funzione laser a diodo e laser a fibra con infrarossi sono simili diciamo in tutto e per tutto quindi come prestazioni dichiarate 10 watt per il diodo due watt per l'infrarossi però hanno delle differenze e tante persone mi chiedono quale mi conviene comprare è difficile effettivamente decidere allora in questo video in modo totalmente imparziale voglio chiarire alcuni dubbi voglio farvi vedere quali sono le differenze sostanziali in modo che voi possiate scegliere quale comprare faremo una prova di velocità faremo ovviamente la prova di risoluzione ma soprattutto li valuteremo nel contesto quindi tante persone li utilizzano nelle fiere hanno bisogno di trasportarli hanno bisogno di una certa comodità ma anche di alcune funzioni quindi vi farò vedere spero nel migliore modo possibile perché una mia iniziativa una cosa alla quale tengo visto che in chat non si può rispondere a tutti e lo stesso nei commenti e tante cose possono sfuggire utilizziamo questo video poi se voi avete qualche altro consiglio qualche altra opinione su questi due incisori quindi conoscete le differenze eccetera magari sul volo scrivetele nei commenti vi lascio il link ovviamente dei prodotti e anche delle recensioni specifiche perché non posso farvi vedere tutto ci sono gli accessori che vengono dati ma quali li vedete nelle recensioni specifiche cambiamo in guardura e guardiamo xdool f1 e laserpeaker 4 al confronto e allora abbiamo quindi i nostri due prodotti affiancati xdool f1 laserpeaker 4 guardiamoli esteticamente non mi soffermerò sui prezzi ragazzi perché quelli ritrovate online poi per qualcuno potrebbe non essere un problema la differenza di prezzo quindi questo voglio sorvolarlo voglio concentrarmi più che altro appunto sulle prestazioni e sulle caratteristiche come vedete l'x tool f1 ha una struttura compatta unica con una maniglia sulla parte superiore e questa copertura che scorre in alto in basso il laserpeaker invece è composto da più parti quindi va montato al momento dell'acquisto è composto da più parti che si possono quindi staccare questa è la copertura a un aggancio magnetico il laserpeaker però è un display sulla parte superiore display touch nella quale compaiono molte informazioni entrambi hanno la regolazione dell'altezza di elettronica con dei tastini da questa parte una rotellina da quest'altra parte è una differenza anche sulle dimensioni di incisione quindi laserpeaker 4 a una dimensione maggiore arrivano a 160 per 120 mm al massimo invece l'x tool f1 arriva 115 per 115 laserpeaker dalla sua anche la possibilità di essere regolato quindi si può inclinare la proiezione per poter incidere su degli oggetti che non possiamo mettere al di sotto quindi inclinandolo possiamo incidere per esempio computer quello che vogliamo sfruttando l'inclinazione e si può anche ribaltare tutti e due però si possono utilizzare rimuovendo la parte inferiore e quindi possiamo incidere su alcune superfici direttamente impugnando gli incisori e quindi incidendo in questo modo su un tavolo su qualcosa che non può essere messo al di sotto sia per l'uno che per l'altro semplicemente in questo modo quindi da questo punto di vista sono simili come concezione però ripeto con la dimensione differente 115 per 120 e 160 questo è il piano per poter fare i tagli quindi una sorta di griglia nido d'ape per capirci per far fuoriuscire i fumi vanno messe in questo modo entrambe ci permettono di fare quindi sia i tagli che le incisioni entrambi si possono utilizzare con il computer oppure con l'applicazione oggi faremo la prova solo con il computer per chi ci interessa più che altro vedere appunto le prestazioni allora indubbiamente l'ixtool è più compatto più ordinato abbiamo solamente il cavo del computer e l'alimentazione nella parte posteriore invece la serpica tantissimi cavi e considerate che ancora manca il cavo di questo cono e qua c'è pure da dire un dettaglio allora qua abbiamo questa ventola che funziona bene riesce ad aspirare i fumi quindi lascia libera il volume del dove passa il raggio del laser e spelle fumi rimangono nell'ambiente non è possibile comunque difficile collegare un tubo a questa ventola pure perché essendo collegata magneticamente non è facile che rimanga nella sua sede basta dare un colpo che si muove il tubo eccetera si potrebbe anche staccare da questa parte invece abbiamo questa parte cilindrica e quindi il tubo si collega molto semplicemente come avete visto nella recensione dove l'ho utilizzato con il suo aspiratore un altro piccolo dettaglio allora se noi vogliamo incidere qualcosa e dobbiamo utilizzare questo cono quindi mettiamo questo oggetto mettiamo il nostro cono dopo mettiamo a fuoco e adesso se abbiamo bisogno di muovere una ragione qualunque di rimuovere il pezzo come vedete spostiamo quindi si va a centrare non è proprio semplicissimo volendo con un pochettino di abilità si potrebbe fare però è sempre un po difficile si deve staccare il cavo insomma perché è corto ovviamente per non avere ingombri però questo è un vincolo invece sull'ix tool semplicemente anche durante l'incisione si può sollevare ed abbassare quindi controllare verificare spezionare eccetera tra l'altro l'ix tool dal computer all'impostazione che ci permette di rilevare gli permette di rilevare l'apertura del coperchio quindi possiamo decidere se fermarsi o meno ora passiamo però alle prove guardiamo come lavorano quindi i risultati che otterremo e facciamo la prova solo su dei pezzi di alluminio e dettagli su dei pezzettini di legno non vi farò vedere tutte le regolazioni al computer per filo e per segno state sulla fiducia perché non ho alcun interesse a essere a favore di uno oppure a favore dell'altro tutto quello che vi dirò è semplicemente per aiutarvi a scegliere e allora ragazzi siamo pronti quindi a fare le prove di velocità volevo utilizzare il cronometro per vedere quanto tempo impiegasse per fare un confronto ma siccome sarà un incisione velocissima sarà difficile fare questo test premendo pure questo tastino partiranno sicuramente in momenti separati perché sto utilizzando lo stesso computer con due programmi aperti basandomi su queste tabelle ho visto che il laser picker l'ix tool hanno diciamo prestazioni simili alla massima velocità e alla minima potenza solo che la massima velocità del laser picker non corrisponde alla massima velocità dell'ix tool di conseguenza per un lavoro di questo tipo non avremmo lo stesso risultato ho impostato 600 mm al minuto per quanto riguarda l'ix tool che praticamente è bassissima considerando che può arrivare a 4000 mm al minuto 100 per cento di potenza per questo quindi per il laser picker invece impostato il massimo sia della velocità che della potenza e vedrete la differenza di velocità e di risultato confermiamo vediamo se riesco a farli partire assieme no comunque il l'ix tool è partito dopo ma ha finito molto prima il laser picker ha impiegato sette secondi guardiamo la differenza nel risultato e sono praticamente sovrapponibili questo è dell'ix tool e questo è del laser picker l'ix tool è stato molto molto più veloce però il risultato è eccezionale per entrambi quindi se avete bisogno di tantissima velocità sicuramente l'ix tool di far risparmiare tempo su lavori più complessi questo ovviamente andrà ad influire ora facciamo una prova con un'immagine vera e propria voglio incidere l'immagine del colosseo che ho scattato qualche giorno fa a roma un'immagine molto molto dettagliata e voglio utilizzare le stesse identiche impostazioni quindi vedremo come verrà il risultato finale e vedremo chi finirà prima e che qualità avremo andiamo pure con questa incisione premerò anche il cronometro nel frattempo vi spiego qualcosina quindi diamo l'ok ha iniziato già il laser picker anche l'ix tool come vedete molto più veloce sono entrambi alla massima velocità anche se in realtà la massima velocità scusate non avevo prenduto il cronometro comunque si vede che è più veloce la massima velocità dell'ix tool non posso deciderla per questo tipo di immagini fa tutto in automatico impostate che dovete utilizzare l'alluminio anche se arriva a 4000 millimetri al secondo in realtà sta andando un po più lentamente e il laser picker non riesce ad eguagliarlo e questa è la velocità massima che può avere più di questo non riesce a fare quindi vediamo però il risultato finale lasciamolo lavorare e alla fine vedremo se entrambi al massimo delle loro prestazioni riescono a darci risultati ok l'ix tool ha finito in tre minuti e mezzo praticamente è invece il laser picker ancora sta lavorando siamo quasi a metà della del lavoro e la risoluzione non mi sembra la stessa il laser picker non sta avendo lo stesso risultato dell'ix tool mi ha dato un'immagine molto definita però la vedremo alla fine anche se c'è da dire che volendo con il laser picker si può ottenere lo stesso risultato dell'ix tool però in molto più tempo se qua stiamo avendo questo risultato non eccezionale alla massima velocità per ottenere un risultato eccezionale dobbiamo ridurre la velocità allora in questo caso conviene l'ix tool quindi a questo punto di vista sulla velocità vince indubbiamente e tenete in considerazione che a me se comprate l'ix tool oppure comprate al laser picker non cambia nulla anzi a me fa piacere darvi la possibilità di poter scegliere e di guardare queste prove in modo da rendervi conto quale vi convenga di più un altro dettaglio che tengo a precisare l'ix tool ha lavorato a metà della sua definizione con le pre impostazioni del programma quindi impostando che dovete incidere su questo tipo di materiale sull'alluminio colorato automaticamente definirà la risoluzione che intermedia per il laser picker siccome arriva fino ad 8k o impostato 4k come definizione in modo a mantenermi pure ad una definizione intermedia con un cap oppure 2k riuscirebbe essere più veloce la differenza starebbe poi nella risoluzione finale che sarebbe più bassa ok abbiamo impiegato praticamente 9 minuti per fare lo stesso lavoro che l'altro ha fatto in tre minuti e mezzo però questa è in 4k quindi abbiamo una risoluzione maggiore che richiede più tempo proviamo a fare la stessa cosa ad un k come risoluzione e ovviamente questo lavoro lo farò iper accelerato senza alcun tipo di commento così ci sbrighiamo ok un minuto e mezzo è riuscito a fare un lavoro completare il lavoro però ragazzi con un k non si capisce un h facciamolo allora a 2k vediamo se in questo caso raggiunge tre minuti dell'altro e vediamo se riesce a darci lo stesso risultato nello stesso tempo proviamo con 2k allora quasi cinque minuti per fare lo stesso lavoro dell'altro ha fatto in tre minuti e mezzo è però la qualità non è la stessa comunque abbiamo il colosseo abbiamo un'immagine che si capisce bene ma imparagonabile guardate la definizione di una la definizione dell'altra però volendo se per voi va bene non dovete fare immagini fotografiche ma per esempio scritta eccetera allora va benissimo anche il laser picker se invece volete la massima risoluzione alla massima velocità l'x tool come avete visto vi da questo risultato quindi 4k 2k è un k qua tutto pre impostato impostate che dovete utilizzare la card in alluminio e ve lo fa con questo effetto meraviglioso proviamo anche sul legno proviamo a fare un taglio e incidere qualcosa facciamo tutte le riprese così tenendo fra le mani il telefono in modo da avere un inquadratura migliore anche del monitor altrimenti non riuscireste a capire bene quello che sto facendo come vedete abbiamo delle impostazioni per quanto riguarda il laser picker con il 70 per cento e 8 per quanto riguarda la velocità invece per quanto riguarda l'x tool abbiamo 70 per cento di potenza 100 mm al secondo di velocità prova incidere il mio logo quindi quando partirà il laser picker darò ok premendo il tastino dell'altro ok come velocità sono molto simili come vedete sull'x tool il fumo va verso fuori ha finito prima ma dobbiamo vedere il risultato finale perché essendoci differenza sulle impostazioni allora vediamo x tool e laser picker senza dubbio laser picker è venuto più marcato però questo dipende appunto dalla velocità diciamo che sul legno se la giocano perché quello è stato il x tool è stato più veloce però ha avuto un risultato più leggero invece il laser picker è stato più lento ed è stato più marcato come è normale su tutti gli incisioni laser a diodo più si va velocemente meno sarà marcata ovviamente in proporzione alla potenza impostata c'è solamente da smanettare con le impostazioni ora facciamo anche una prova di taglio oppure in questo caso vale la stessa regola facciamo comunque una prova sto utilizzando il massimo della potenza il massimo della profondità con il laser diodo picker e faremo una velocità ridotta a 5 mm al secondo con il massimo della potenza con x tool proviamo ad avviare contemporaneamente i lavori ok non so cosa ho fatto quindi cerchiamo di capire dove ho sbagliato e allora ragazzi perdonatemi ma ho sbagliato il x tool era impostato ancora con il laser a fibra quindi devo rifarlo ma questa volta in modo corretto quindi riproviamo ok come velocità sono super giù uguali il laser picker non ha tagliato è leggermente più sporco vediamo l'x tool l'x tool si ha tagliato quasi del tutto quasi completamente quindi andando più lentamente messo possibilmente a tre o a quattro sicuramente sarebbe riuscito a staccarlo quindi come vedete c'è differenza per il laser picker è necessario fare più passate altrimenti non riusciamo a separarlo stesso legno stesso materiale stesso spessore e ora diamo un'occhiata per bene a tutti i risultati quindi questo è il risultato ottenuto con l'x tool guardate la definizione quindi vediamo tutti i dettagli guardate quanto sia piccola questa decisione si vedono le barre dei cancelli tutto ciò che c'è all'interno l'effetto della roccia del colosseo tutto tutte le statue si vede tutto benissimo invece per quanto riguarda il laser picker in realtà si si vedono i dettagli ma non allo stesso modo quindi qua abbiamo le barre dei cancelli ma non abbiamo lo stesso risultato e la stessa qualità è impiegato più tempo ripeto io non ho alcun interesse attivare per uno o per l'altro vi sto mettendo davanti i risultati questo un k non consideratelo però se guardiamo anche la risoluzione di 2k non abbiamo avuto chissà quale il risultato in confronto al l'x tool l'x tool comunque più definito questo va bene comunque è sempre colosseo si capisce però qua innegabilmente abbiamo risultato maggiore quindi più definizione per quanto riguarda invece il file vettoriale sempre sull'x tool abbiamo una definizione elevatissima come abbiamo una risoluzione elevatissima sul laser picker però qua noto che ci sono queste piccole linee che invece sull'x tool non ci sono quindi ci sono dei pro e dei contro per quanto riguarda la struttura per quanto riguarda tanti particolari però l'x tool senza dubbio è più veloce risultati comunque si portano a casa più velocemente e con più definizione e allora ragazzi quindi cosa dire di questi due incisori laser allora si equivalgono nel senso che entrambi hanno le stesse funzioni fanno le stesse cose però uno quindi l'x tool indubbiamente ve l'ho detto anche durante la recensione ha delle prestazioni maggiori per quanto riguarda il laser picker è più lento questo è innegabile ricorderete durante la recensione ho fatto vedere che per il grande power bank ho impiegato ben quattro ore questo ve l'ho detto durante la recensione dello stesso prodotto comunque a me piace funziona sia uno che l'altro funzionano bene questo alcuni vantaggi per quanto riguarda la facilità di utilizzo nel posizionamento un'area di lavoro più grande l'altro invece è una definizione maggiore una velocità maggiore però un'area di lavoro più piccola più facilità per espellere i fumi insomma ci sono tante cose che dovete valutare io in queste prove ovviamente posso farvi vedere solamente la risoluzione e la velocità poi tutto il resto sta a voi valutare quale acquistare quale no quale migliore dell'altro insomma in base a quello che voi cercate comunque sia anche il laser picker lavora bene e dà delle belle soddisfazioni c'è solo da smanettare e stare lì a capire quali siano i parametri corretti l'x tool fa tutto da solo quindi da dei punti in più effettivamente poi in italiano ancora di questi video non ce n'erano ho cercato sulla rete prima di fare questo video per dare una risposta a voi e mi sono detto bello da questo punto facciamo un video dimostrativo anche in italiano anche se negli altri video ci sono molte più prove ho fatto quelle che secondo me sono più utile più interessanti per capire quale acquistare quindi la prova sul legno la prova sia di taglio che di incisione nella prova sulla card in alluminio verniciato sia con un file vettoriale che con un immagine per capire la definizione tempi e tutto il resto ora sta a voi vi lascerò i link giù per poter comprare eventualmente prodotti cosa dire iscrivetevi al canale mettete mi piace al video se vi è piaciuto cliccate sulla campanella per essere iscritti e ci vediamo a tutti nei prossimi caricamenti ciao da riccardo ea presto